Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video intendo mostrare il funzionamento di Araward portabile in particolare l'acquisizione della possibilità di leggere il testo convertito in pittogrammi di Araward portabile perché nativamente Araward portabile non lo fa per cui adesso facciamo le operazioni io ho già inserito questa chiavetta che si chiama Araward portabile l'avvio, dentro c'è la cartella che contiene le note legali che consiglio di leggere non solo per quel che riguarda l'aspetto della legalità e la tipologia di licenza con la quale abbiamo rilasciato questo software ma le caratteristiche che spiegano appunto come funziona e come lavorare con i pittogrammi quando si trova la necessità di costruirne uno o cercarne qualcuno che non c'è ovviamente oltre ai ringraziamenti che doverosamente vanno fatti a Oscar Pastrone per aver aiutato lo sviluppo è stato determinante, assolutamente determinante di Open Blasti a Giovanni Caruso dell'ITD del CNR e tanti collaboratori che hanno fatto i test in giro per Italia, la collega di Fonzo che con i suoi suggerimenti ci ha aiutato molto anche in questo adesso vado a spiegare come funziona Araward portabile e come ci si mette la voce se qualcuno ritiene che sia necessario allora apro la cartella Araward portabile e faccio doppio clic su Esegui Araward dovete sopportare questa schermata nera, è una finestra che funzionerà in background e che ci permette di superare tutta una serie di ostacoli che Windows mette quando si trova dei programmi che si eseguono senza il suo controllo ecco che parte Araward, voi mettetelo tutto a schermo così non lo vedete più e siete a posto quindi adesso io posso andare a scrivere adesso Araward magari non mi piace azzurro, nero, me lo cerco blu eccolo Araward è un programma 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 portabile la portabile ecco ha trasformato in pittogrammi il mio testo facendo alcuni cambiamenti la parola portabile ok, ha fatto il suo servizio e se io le dico dal bottone leggi non si sente nulla come osservate anche andando a controllare nelle preferenze generali trovo che no, è Google metto Windows è comunque ok non legge che fare? ecco, Araward non legge perché non ha una sintesi vocale di riferimento nel sistema operativo quindi la cosa da fare è spegnere Araward magari salvo il file così dopo lo ritrovo lo ritrovo, scusate salvo con nome desktop lo chiamo Araward portabile così dopo ripartirà e farò leggere quello che non ho letto vedi adesso porta fuori i pittogrammi che sono stati modificati bene allora spengo il programma confermo l'uscita il programma si chiude e cosa farò adesso? adesso andrò eccolo qui il file che ha prodotto Araward portabile a vz adesso da isdida che è un pacchetto che io ho prodotto messo online andrò ad installare le voci di leggi per me allora diciamo le voci le potete installare o andando sul mio sito e scaricate isdida 3 ecco si scarica da qui cliccate qui e si scarica scompattate il tutto in una chiavetta e esce fuori questa cosa qui una parte installabile una parte portabile nella parte portabile andate ad installare leggi per me eccola qui leggi per me questa è la prima strada scaricate tutto il pacchetto che attiene io ho prodotto questo pacchetto e l'ho messo online serve per la dislessia per ecco ecco una innovazione didattica altrimenti andate sul sito di Giuliano Serena eccolo qua e scaricate leggi per me da qui fv40 se scaricate leggi per me fv40 nella fase di installazione che vedrete che adesso io vado a compiere e si installano 6 voci allora io torno a spiegare dal pacchetto ISD da portabile che ho su questa chiavetta apro la parte portabile e scarico leggi per me quindi vado ad installare le voci esegui attenzione qui mancano le voci vedete in realtà leggi per me installa le voci di microsoft non le voci di leggi per me e che sono voci che microsoft ha permesso di divulgare quindi cliccate su installa tutte le voci mancanti accettate eccolo qui accettate l'installazione finito accettate vedete sta installando lucia accettate accettate adesso sta installando una tedesca accettate accettate ne installa 6 ok a fine lavori vedrete Elena perfetto ci siamo edda ok bene ha installato vedete tedesco inglese spagnolo francese italiana chiudi questo è leggi per me e questo è leggi per me lo facciamo benvenuti in leggi per me lo facciamo partire giusto una volta per sentire la voce e scriviamo questo programma legge alta o c metto qui il cursore ecco non so se voi sentite perché io ce l'ho in cuffia spero che si sia registrato altrimenti vediamo di farlo sentire dal microfono ecco adesso ha cambiato la configurazione si dovrebbe sentire questo programma legge ad alta voce perfetto leggi per me ha incorporato la voce e legge e legge quello che noi scriviamo ad alta voce voce e e parla in in molte molte lingue perfetto allora leggi per me adesso ha introdotto una sintesi vocale all'interno di questo pc adesso quando io farò partire questo è il nostro ARAWORD portabile e che è sempre nella sua chiavetta ARAWORD portabile non utilizzerà voci che non ha ma utilizzerà semplicemente esegui ARAWORD la voce che trova nel pc e andando ad incontrare l'ideoma di riferimento quindi adesso io faccio partire il pc scusate ARAWORD portabile apro il file che avevo appena fatto lo metto tutto a schermo così non vedo nulla di quello che c'è sotto apri vuoi abbandonare questo documento dico di sì sul desktop sul desktop ho ARAWORD portabile AVZ apri adesso lui importerà la frase e i pittogrammi modificati aspettiamo un attimo che dovete tener conto che lui sta lavorando da chiavetta sta processando i 20.000 pittogrammi più quelli che ho modificato io in questa frase quindi ecco qui la frase ecco io consiglio di scompattare ARAWORD portabile in una chiavetta usb3 di buona qualità perché se ARAWORD è viaggia velocemente avrete una risposta veloce mentre digitate altrimenti sarà lenta questo significa che questa cartella ARAWORD portabile se invece di essere su una chiavetta fosse semplicemente qui sul desktop tutto sarebbe molto più veloce ARAWORD avrebbe una risposta più immediata allora questa è la frase importata vado negli strumenti guardo le prove generali vedo che ancora Google devo mettere Windows ok confermo questa scelta e quando accetta il salvataggio io andrò a cliccare il bottone lettura ecco a questo punto il programma se dagli strumenti nelle preferenze generali vedete che Windows si è stabilizzato però a questo punto il programma leggerà basta mettere il cursore A eccolo che legge adesso adesso ARAWORD il programma portabile legge qualche volta succede che dopo aver configurato dalle preferenze generali ecco vedete è tornato Google mettete Windows date l'ok e chiudete il programma perché così si consolida la scelta e riaprite il file a quel punto la lettura si stabilizzerà come sto facendo adesso ecco si stabilizzerà anche se la funzione di lettura di ARAWORD non è delle migliori chiarisco subito i difetti sono legati al fatto che non è possibile far leggere le frasi dal punto di inserzione che si ritiene opportuno non è possibile regolare la velocità apro un altro file non è possibile leggere solo i pittogrammi selezionati ma ARAWORD legge tutta la frase partendo dall'inizio quindi non è una funzione di altissimo livello diciamo che la potenzialità di ARAWORD sta nel fatto adesso che porta con sé i pittogrammi da un computer all'altro all'interno della chiavetta posso implementare i pittogrammi che mi servono e eventualmente introdurne di nuovi posso modificare delle parole posso modificare l'aspetto grafico di tutti i pittogrammi però la funzione di lettura non è delle migliori un educatore un insegnante potrà essere un ottimo traduttore in linguaggio di quello che va scrivendo perché il bambino o l'utente non può decidere cosa far leggere al programma ecco per spiegare questo questo fatto faccio vedere cosa succede con questa frasetta la gallinella ascoltiamola la gallinella col becco mangia molti semini la gallinella cerca i semini nel giardino della fattoria ecco se io volessi far partire la lettura nel come ho messo il cursore non lo fa mangia molti semini la gallinella cerca i semini nel giardino della fattoria insomma diciamo che non è il lato forte oppure quando io seleziono lui non legge vedete la gallinella col becco mangia molti semini la gallinella cerca i semini nel giardino della fattoria ecco legge la punteggiatura come avete sentito la pausa della virgola però gli strumenti sono molto limitati c'è la voce c'è la sintesi vocale ma ha questa difficoltà in ogni caso il programma pur avendo una limitazione nella gestione della voce si presenta come un programma molto efficace questi pittogrammi questa scrittura per immagini io la posso estrapolare metterla dentro a una presentazione una tavola interattiva di open board oppure in un foglio di elaborazione di testi di writer inter ecco quindi spiegato come il nostro reward portabile si implementa di voce utilizzando le voci microsoft di leggi per me che io ho installato andandoli a prendere da isd da portabile dal sito mio fusillo www fusillo meno francesco punto it buona sperimentazione con un reward portabile e nel caso come si implementa la sintesi vocale all'interno del computer per poi utilizzarla con un reward portabile francesco fusillo buona sperimentazione di reward portabile di